Buongiorno a tutti, sono Nutabris96 e questa è la seconda parte del nostro secondo box di nore bianco graziazione plasma. Andiamo subito ad aprire i pacchetti. Oggi ci toccano questi 9 col caro Absoll che adesso si è anche mega brutto nella stessa generazione facendogli crescere delle allette simpatiche e andiamo subito con il codice. Finalmente adesso dovrei aver, sono riuscito a capire come registrare bene con il telefono senza avere problemi, perdite varie. Dopo 15 tentativi, comunque medaglia del team plasma. Esatto, Vanillish, Dragonair, Beldum, Ponyard, Chinchou, Sandile, Sneasel, Sandile e Q-Ram. Uno, fantastico, fammelo vedere, togli subito. Una volta che ci esce una carta desiderata. Meno male, questo ci manca. Che fa Cinghiade? Come attacco? Si, Cinghiade. Fa Congelance e Pyrobora. Ah, infatti adesso l'ho messo a fuoco. Congelance e Pyrobora. Questo Pokémon leggendario, De Ghiacci, attende l'eroe che gli restituirà... Le sue vere tembianze con l'ideale o la verità. Nero o bianco. Eh, Q-Ram nero o Q-Ram bianco. Bellissimo. Perfetto. Meno male. Prossimo. Ok. E uno. Infatti nella parte prima si era incazzato quando io ero uscito Zekrom. Eh, scusate, Ressiram. Eh, che cazzo è 3. Se uscisse Zekrom sarebbe contento. Sì, 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 assolutamente. E quindi andiamo col codice... Eh, quel Pokémon magari... Anche che se è l'Ultra Ball... Sì. Ok. Andiamo, andiamo. Flareon, Nidorino, Onyx, Mankey, Cacnea, Starly, Mayamask, Rattata... Sì. Roccio difesa, bene, bene, bene. E Mr. Mine. Oh, buono, questo Upsol è iniziato bene. Eh, sta seconda parte, sì, sta andando bene. Meno male, 2 su 2. Ski, è l'unico asso tattico che ci mancava? Eh, sì, 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 sono roccio difesa. Ok, andiamo avanti. Meno male, ok. Già buono, già buono. Prossimo pacchetto è un polion segreto. Magari, se uscissero una di quelle che ci... Alla fine ce ne servono... Lo dico subito, 3, 6... Sta leggendo. Sta leggendo, sta leggendo! Adesso ce ne mancano 16. Sta leggendo. Comunque, andiamo avanti. Metti a fuoco... No, no, l'aveva fatto, l'aveva fatto. Qualcosa? Empoleon? Potrebbe essere. Empoleon? No, vabbè, non aveva le zigrinature. Tolteon, Execute, Crocorock, Chinchou, Ponyard, Rattata, Grimer, Deino, Ponyard e Cactor. Ok, andiamo avanti. Qui ci sono le Reverse che vengono messe da parte invece delle altre per controllarle poi. Noi nel quaderno poi mettiamo le Reverse che sono quelle che valgono di più. Anche se le Olo ci piacciono di più ma alla fine mettiamo le Reverse. Niente di niente. Beh, potrebbe essere Zekrom. Espeon, Sidra. Non avevo mai visto quel Sidra. Onyx? Non me lo ricordavo. Sandile, Cacnea, Sneasel, Makuita, Eevee, Voltorb, Quex. Niente Zekrom. Ah, per esempio anche i Dragon ci manca di quelle... Beh, sì, le normali. Proprio di quelle normali, di quelle rare e basta, orografiche. Dragon è Zekrom a questo punto. Sono dimenticato nella parte precedente di mostrare la spazzatura. Questa volta non accadrà. Ma è che se sei un feticista della spazzatura? Sì. Vabbè. E andiamo avanti. B-Sharp, Miltank, Grovile, Primeape, Horsi, Deino, Litwick, Pacirisu, Pacirisu e un Kofagrigus. Mi sembra che nell'ultimo codice hai coperto l'ultima lettera. Fallo rivedere un attimo. Ehm, ok. Sono come il dottore di Homer Simpson che copriva i pennarelli nel cervello. Se avete visto la puntata del pennarellino nel cervello. Intanto per nostra grande gioia il cane dei vicini si sono rimesso da abbaiare. Ovviamente. Vuoi attirare un pugno contro il muro? No. Vuoi attirare un pugno contro il muro? Ma favore cane, non solo esprimersi. Ma dai, mi rovina il video. Ok, smesso. Oh, che palle. Che poi cazzo hanno una casa più piccola della nostra che non è che era una casa grande, è una casa piccolina. Ma loro sono tipo in tre e hanno un cane enorme. Trio scuro. E due gatti. E due gatti. E un bambino piccolo. L'onidorina, onyx, ivy, vanillite, orsi, trico, grimer, deino e un glassion. E un glassion. C'è un pastore tedesco che è più grande di me, tra un po'. Io ho 18 anni e sono alto più o meno 1,73, 1,74. Sei alto. Diciamo che sei basso. Sono basso 1,73, 1,74. E sto cane è ovviamente più grande di me. È una fusione tra un cane e un vitello. Esatto, come te. Vai. Che tu sei più vitello che uomo. Questa potrebbe essere una ex. Potrebbe essere una ex. Jolton... Aspetta, guardiamo solo il bordino? Sì. Sì? No? No, 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 no. Jolton... Kakuna, false speranze. Palpitod... Zizel... Beldum... Midoran Femmina... Cacnea... Hutut... Dratini... E infatti Madagascar... Che abbiamo già, quello è da scambio. C'è l'ultimo pacchetto di Absol? Eh, vabbè. Vabbè, non è data male sto giro a Absol, eh? No, gli ultimi due. No, gli ultimi due, dai. Eh, speriamo che esci almeno uno... Apri, apri, veloce, apri. Apri, apri. Così, apri. Codice, ok. E andiamo avanti. Niente di che. Non lo so. Ma abbiamo trio scuro. Metang, Palpitod, Primeape, Horsi, Yamask, Widow, Eevee, Jolteon, Reverse e Umbreon. Ed eccoci all'ultimo pacchettino. Vediamo un po' cosa uscirà. Bello. Se no, la nostra gentile assistente riesce ad aprire. Non riesce ad aprire. No, ecco. Ed abbiamo il codice, ok? E le carte. Nulla di full artistico. Ma abbiamo Città Congelata, che è la prima volta che esce, sicuro. Sì. Crocorock, Naptowl, Sendai, anche Sendai l'hai mai visto, Yamask, Litwick, Primei, Puccinchou, Trio Oscuro e Umac. Bene, questa è la spazzatura. Così, a caso, ancora due parti. Ci vediamo nel prossimo video.